Ok, come fare per capire se la banca con la quale stiamo investendo o se il promotore finanziario da noi scelto ci sta truffando oppure no, ci sta applicando costi troppo onerosi per i nostri investimenti e se ci ha magari venduto prodotti spazzatura o prodotti al limite della truffa. Vedremo in questo video come si fa a riconoscere tutto questo, vedremo anche quanto sono importanti i costi nei nostri investimenti e imparerai, comunque apprenderai a riconoscere e valutare questi costi, i costi sugli investimenti. Allora ci sarebbe tantissimo da dire, in realtà non abbiamo tempo in questo percorso base di vedere tutto, quindi le differenze tra gestione attiva e gestione passiva, le differenze tra tutti i vari strumenti finanziari, però ti do intanto delle regole generali. Già queste regole ti possono aiutare molto a mio avviso per riconoscere appunto se sei stato truffato o comunque al di là di tutto se la banca sta facendo veramente i tuoi interessi o se il promotore sta facendo realmente i tuoi interessi. Allora presta la massima attenzione perché se possiedi in questo momento, quindi se stai investendo in questo momento in fondi a gestione attiva, in policy unit linked o policy index linked, gestioni separate o miste, gestioni patrimoniali, certificati magari acquistati in collocamento, azioni, questo è ancora peggio, obbligazioni singole di quella determinata banca dove lavora il consulente o proprio della banca a cui ti sei affidato per investire, beh già questo è un campanello d'allarme. È molto probabile che se hai investito tramite una banca o comunque tramite un promotore finanziario, è probabilissimo, anzi te lo do per certo, che tu in portafoglio hai uno di questi strumenti o più strumenti o proprio un mix di questi strumenti. Magari potresti avere dei fondi a gestione attiva, delle policy unit linked, dei certificati, l'azione singola di quella banca, le obbligazioni subordinate di quella banca e così via. Questo è un campanello d'allarme, cioè già se vedi che hai questi prodotti in portafoglio devi fare attenzione, quindi o li analizzi tu e poi sistemi tutta questa schifezza, tutta questa spazzatura, oppure ti fai assistere da un consulente indipendente. Quindi questo è un primo campanello d'allarme. Alcune regole per riconoscere la spazzatura nel portafoglio. Allora, se non capisci il prodotto dove stai investendo, questa è la prima regola, eliminalo. Perché? Perché negli investimenti tu devi capire in cosa stai investendo, questo è molto grave. Un consulente che ti vende una... in realtà non lo può fare, cioè è anche illegale. Un consulente che ti vende o comunque ti consiglia uno strumento di cui tu non abbia comunque la conoscenza è grave, non si può fare in realtà e non fa bene per te. Quindi devi eliminarlo. Se non capisci il prodotto sul quale stai investendo, ti consiglio di eliminarlo. Devi capire molto bene il prodotto in cui stai investendo. Inoltre se il prodotto, e qui a mio avviso è ancora peggio di prima, cioè se il prodotto che ti hanno venduto è veramente un casino, è un caos, è opaco e non trasparente, a volte anche noi consulenti finanziari indipendenti facciamo fatica ad analizzare certi strumenti finanziari perché sono creati appositamente, te lo assicuro, per rendere difficile la comprensione, cioè per rendere veramente quasi impossibile capire in cosa sta investendo effettivamente quel prodotto in un determinato momento. Quando hai di fronte uno strumento finanziario opaco o non trasparente, fidati anche qua, eliminalo dal portafoglio. Inoltre se il prodotto supera questi costi, eliminalo. Questo è molto importante perché non ha senso investire a mio avviso con strumenti finanziari onerosi. Allora, poi ti farò vedere come riconoscere e capire quanto stai pagando e quale commissione ti applica la tua banca, in linea generica. Però già da adesso ti dico, magari questo prendilo come appunto, se hai dei fondi azionari a gestione attiva con un costo di gestione annua, poi ti dirò che cos'è, ti farò vedere come vedere quanto stai pagando, se è superiore all'1,2% io ti consiglio vivamente di o analizzare per bene quel fondo oppure di eliminarlo direttamente. Se stai pagando per i fondi obbligazionari più dello 0,5%, anche qua è un campanello d'allarme e ti consiglio di eliminare quello strumento finanziario che è un portafoglio. Se per i fondi bilanciati e flessibili stai pagando più dello 0,8%, anche qui è meglio eliminare questi prodotti. Se magari hai una polizza vita con una commissione sopra all'1,2%, anche qua annua, via, toglila, non fa bene per te e per le tue tasche e se hai delle gestioni patrimoniali con costi superiori all'1%, anche qua fidati di me elimina questi strumenti, poi vediamo come riconoscere, ripeto, questi costi. Inoltre, e poi vediamo anche qua cosa vuol dire, se quel prodotto finanziario in cui sta investendo è costantemente sotto il benchmark, poi vediamo cosa vuol dire, vendilo perché è un prodotto inefficiente, sta guadagnando meno rispetto a quello che elargisce il mercato, rispetto a quello che elargisce magari un ETF che si limita a replicare quel determinato mercato di riferimento. Se il prodotto invece è costantemente sopra il benchmark, valuta però potresti pure tenerlo in portafoglio perché magari è un prodotto efficiente. Qui però devi fare attenzione, dopo ti spiegherò il perché. Se il prodotto invece è pari al benchmark, quindi se quello strumento che stai pagando non ti fa guadagnare più rispetto magari a uno strumento semplice come un ETF, vendilo perché è uno strumento a quel punto inefficiente, non sta realizzando l'obiettivo per cui è stato creato, è stato lanciato. Allora, quando identifichi, poi vedremo come identificare, ci arriveremo, la spazzatura che hai in portafoglio, potresti incorrere in blocchi mentali. Io ho visto tantissime persone che, seppur hanno capito e hanno preso consapevolezza che hanno veramente della spazzatura in portafoglio, che a volte sono proprio stati truffati o comunque sono stati raggirati proprio al limite della truffa, truffa legalizzata chiamiamola, queste persone poi si sono bloccate, non hanno fatto niente, cioè non hanno intrapreso delle soluzioni. Perché? Perché è molto semplice nella finanza incorrere in blocchi mentali. Cosa vuol dire? Vuol dire che i costi sono, come ti ho spiegato, subdoli degli investimenti perché non li vedi e la tua mente tende a giustificarli. Sono costi che tu non vedi in maniera chiara, quindi cerchi anche di mentire a te stesso su questi costi. E un blocco mentale molto importante che mi capita spesso di vedere è che hai paura di vendere quei strumenti finanziari, pure se sono veramente, cioè sono proprio spazzatura. Perché? Perché tu hai paura di rovinare il rapporto con il tuo consulente di fiducia, che magari questo rapporto si è estaurato nel corso del tempo, o addirittura, cosa che capita molto spesso in Italia, il consulente finanziario da te scelto è magari un tuo amico di infanzia, o comunque a volte un parente o a volte comunque una persona che in qualche modo conosci. Quindi hai paura di dirgli le cose come stanno e hai paura di fargli un torto. Quindi accetti di investire in prodotti spazzatura. Questo a mio avviso è molto grave perché si tratta dei tuoi soldi, cioè ok l'amicizia, ok tutto, però si tratta dei tuoi soldi. Se stai investendo vuoi guadagnare, non vuoi perdere, non vuoi farti fregare e non vuoi soprattutto farti raggirare o truffare. Molte volte la nostra mente non riesce ad accettare la verità, cioè non riesce ad accettare il fatto che noi abbiamo sbagliato in qualcosa. Abbiamo sbagliato magari ad investire tramite quella banca, tramite quel consulente. Cerca di evitare questi blocchi mentali, però prima di tutto devi capire come dicevamo, come i costi che stai pagando, se il prodotto è efficiente o meno e a breve lo vedremo. Prima di vedere come fare per riconoscere quanti costi stai pagando, voglio farti vedere questa tabella per farti capire quanto sono importanti i costi nel mondo degli investimenti. Questa tabella ci fa vedere l'incidenza in realtà dei costi annui sul capitale finale investito. Quindi come puoi notare, se investi magari con un costo annuo del 3%, che ti assicuro è quasi la normalità in Italia, non è impossibile, è un costo annuo del genere per i nostri investimenti, beh, se investi magari a 30 anni, questo costo ha un'incidenza del 60% sul tuo capitale finale investito. Quindi stai rinunciando più alla metà dei profitti, è qualcosa di folle. Molte volte si va anche, come ti farò vedere a breve, quello è un caso reale, anche a stadi reale, si va oltre il 3,5% di costi applicati dal promotore o comunque dalla banca. Quindi si incorre anche a volte in un meno 66% di incidenza dei costi, un meno 70% dipende, no? Per quanti anni rimaniamo investiti. I costi sono importanti. Guarda qua, questo vale per lo più per il mercato americano, perché si tratta di costi abbastanza bassi. Come puoi notare, c'è chi investe magari con una commissione dello 0,5%, c'è chi investe con una commissione dell'1% e c'è chi investe con una commissione dell'1,5%. Se noti, dopo 30 anni, cioè dopo un arco temporale, comunque abbastanza lungo, investire con una zavorra, tra virgolette, perché in realtà per noi in Italia è un costo basso, dell'1,5%, dopo 30 anni ti fa perdere terreno di 125.000 dollari in confronto a chi ha investito con una commissione dello 0,5%. Quindi si tratta già così di molti soldi, però per il mercato italiano è diverso, perché parliamo anche di costi di commissione, anche come vedi qua, del 3,7%. Ad oggi i promotori finanziari, anche consulenti finanziari indipendenti, banche, eccetera, devono mandarti un riepilogo dei costi. Molte volte mi capita di vedere dei portafogli che analizziamo con costi di commissione sopra anche al 3,7%, che è folle. Cosa vuol dire pagare un costo di commissione del 3,7% anno? Vuol dire che intanto lo paghi anno per anno, e quindi abbiamo visto l'incidenza dei costi su più anni fa, l'interesse composto negativo. Ma vuol dire anche in un anno magari che il cliente che ha un milione di euro investiti, possono essere tanti o pochi, dipende, è tutto relativo nel mondo finanziario, paga come minimo 30.000 euro annui alla banca, sia che il mercato va bene, sia che il mercato va male. E li paga quindi a banche e gestori. Con un consulente indipendente puoi ridurre drasticamente questi costi. Guarda che 30.000 euro sono tanti. Io ho visto, mi è capitato di vedere, tante persone che pagano 30.000 euro. Anche persone che pagano più, a volte è successo anche 100.000 euro all'anno, è folle. Già 30.000 euro, capisci che è più di uno stipendio magari italiano. Con un consulente indipendente puoi ridurre drasticamente questi costi. Come minimo, in questo caso, potresti risparmiare più di 20.000 euro. Si tratta veramente di un risparmio incredibile. Inoltre, un consulente indipendente ti può consigliare e può fare il tuo bene, nel senso che non c'è conflitto di interessi, può, al di là dei costi, darti comunque strumenti efficienti. E quindi non strumenti spazzatura. Anche perché non avrebbe senso. Dato che il consulente indipendente vuole fare il tuo bene. Cioè, vuole renderti felice, così che, questa è la verità, l'anno successivo ritorni in consulenza da lui. Ok? E' questo il fatto. Allora, dicevamo, è importante secondo me che ti, magari, vai a vedere questi costi, li prendi degli appunti, o magari fai uno screenshot a questa parte. Cosa devi fare per capire se il consulente ti sta truffando, comunque al di là di tutto, se stai pagando troppi costi e se non hai un prodotto efficiente, cioè se stai investendo in un prodotto non efficiente. Ripeto, non abbiamo modo di vedere tutto tutto, perché ci sarebbe da dire, però cosa puoi fare velocemente per capire quanto stai pagando in linea di massima? Allora, dovresti entrare nel tuo home banking e trovare il nome dei prodotti nei quali stai investendo. Ad esempio, potresti avere nel tuo portafoglio Amundi Funds European Equity, quindi small cap, quindi magari un prodotto a gestione attiva di questa emittente, Amundi, che investe in azionario small cap, quindi azionario di piccola dimensione, di piccola bassa capitalizzazione. Sarebbe molto utile che se tu riesca a trovare, se tu riuscissi a trovare il codice ISIN, che è questo qua, che è un codice univoco, che rappresenta e ti permette di trovare, senza commettere errori, quel prodotto finanziario determinato, cioè è un codice univoco. Questo prodotto, se tu lo trovi nel tuo home banking, ti assicura che il fondo è questo, cioè che stiamo parlando di questo. Vai su questo website, ce ne sono tanti in realtà. Io, ad esempio, con Atena ho un software che ovviamente è a pagamento e è migliore, ci permette di vedere proprio tutti i costi in maniera precisa, ci permette di vedere tantissime cose, però già questo, per un utente che non lavora in questo mondo, ti dà un'idea dei costi che stai pagando. Allora, quando hai trovato il codice ISIN dei tuoi prodotti, o quando hai trovato il nome, lo inserisci qua, in questa barra di ricerca, e ti uscirà fuori questa schermata, cioè ti porterà dentro questo prodotto. Già da qua, puoi notare che questo è un fondo azionario con un costo del 2,85% di gestione annua. Poi forse ci sono anche altri costi, dobbiamo controllare. Beh, già questo è un campanello d'allarme potente, perché è follia investire con queste commissioni, totalmente folle. Cosa puoi controllare inoltre? Puoi andare anche qua, su Grafico Interattivo, e vedere se a fronte di questi costi tu stai riuscendo a battere il benchmark. Adesso cerco di spiegarti velocemente cosa vuol dire. Qui clicca su Max e come puoi notare questo fondo a gestione attiva che magari è in portafoglio è la linea blu. Come vedi la linea blu nel grafico dei guadagni, qui trovi il tuo capitale, l'apprezzamento del tuo capitale e qua trovi il passare del tempo. Come puoi notare questa linea blu è sotto ad altre linee. Quindi è già un campanello d'allarme che ci sta dicendo che in realtà questo strumento finanziario è andato peggio di altri. Morningstar che è un prodotto comunque gratuito ti permette di inserire e anzi ti abbina già in automatico dei benchmark. Dopo ti spiego cosa sono. La linea rossa in questo caso è la linea azzurrina. Come vedi la linea blu è sotto a queste linee. Molte volte Morningstar può sbagliare. Quindi per fare una cosa uno studio molto più approfondito è meglio utilizzare un servizio a pagamento come quello che utilizzo io però è più per consulenti finanziari indipendenti. Dicevamo qui siamo sotto c'è questo strumento finanziario a gestione attiva che in realtà si prefigge di battere il benchmark quindi di battere il mercato quindi quanto rilascia il mercato e questo in realtà questo indice di azionario europeo a bassa capitalizzazione in realtà ha perso ha fallito il suo obiettivo cioè non è riuscito a guadagnare più di questo indice ok qui in fondo di gestione attiva abbiamo un gestore quindi una persona o più persone un gruppo di analisti che cercano di analizzare quali sono i migliori titoli da inserire in portafoglio per guadagnare più del mercato quindi guadagnare più di questo benchmark qui andiamo veloci non ti posso spiegare per bene battere il benchmark il benchmark e tutto però in sostanza è questo il fondo ha fallito nel suo intento perché sta guadagnando dal 2019 meno rispetto al mercato a fronte di costi elevati quindi questo è uno strumento inefficiente quando ti dicevo se il prodotto è sotto il benchmark vendilo perché è inefficiente volevo dire proprio questo in questo caso non ha senso investire in questo prodotto anche perché i costi come abbiamo visto e ne abbiamo visto in tanti solo uno sono elevati del 2,85% quando investi inoltre e quando vuoi analizzare i tuoi strumenti finanziari cosa puoi fare puoi andare su documenti quindi in questa sezione in questa tab e scaricarti prospetto informativo e kid partiamo dal dal kid quindi apriamo questo pdf nella parte alta noi troveremo gli obiettivi e la politica di investimento quindi ci farà un recap su cosa sta investendo questo strumento cioè di cosa si occupa poi troviamo il profilo di rischio e rendimento quindi ci dice comunque che è uno strumento abbastanza rischioso perché su una scala da 1 a 7 ha un profilo di rischio di 6 e cosa più interessante magari per te è anche andare a vedere queste tipologie di costi allora ti dicevo che ci sono più costi applicati ai tuoi investimenti innanzitutto ci sono che qua non vedi dei costi commissionali di negoziazione cioè quando vai ad acquistare o vendere uno strumento finanziario nella tua banca o nel tuo broker tu paghi delle commissioni queste qua si chiamano di negoziazione dipende dalla tua banca qui in realtà non sono altissime poi dipende da che attività di investimento trading fai però non sono altissime quelle che a mio avviso su quelle che a mio avviso devi fare più attenzione sono in realtà queste che vedi in questa tabella allora questo prodotto non ha spese di sottoscrizione quindi non ha un entry fee ok perché molti altri prodotti ce l'hanno cioè magari ti applicano fino a un 5% solitamente ti dico la verità te lo applicano però questo prodotto ad esempio che ho preso così a caso non lo sta applicando quindi se decidi di investire in questo prodotto non paghi una commissione di ingresso si dice in gergo o di sottoscrizione perché non c'è quindi già questo può essere buono non c'è una spesa per il rimborso quindi quando andrai a vendere questo strumento non paghi una commissione di uscita molti altri strumenti che ti vendono in banca ce l'hanno ce l'hanno dicevamo e ha però una spesa di conversione dell'1% dell'1% una spesa di conversione vuol dire che se vai a fare ad effettuare uno switch quindi se vai a cambiare da questo strumento a un altro strumento sempre di questa casa paghi un 1% ci sono spese prelevate anno per anno anno per anno spese correnti del 2,85% queste sono troppo veramente veramente troppo questo non va bene quindi se hai un prodotto del genere questo è razionario l'abbiamo capito perché c'era equity equity è l'azionario noi qui dicevamo guardate dicevamo che sui fondi azionari se abbiamo un costo di gestione anche solo di gestione annua che quindi è solo questo superiore all'1,2% abbiamo detto che non va bene per noi perché è spazzatura e qui siamo molto oltre l'1,2% inoltre ci sono anche in questo caso no però possono esserci delle commissioni di performance quindi abbiamo già parlato velocemente sono le commissioni legate al rendimento qui non ci sono per fortuna altre volte ci sono cioè noi possiamo trovare prodotti che hanno che applicano tutti i costi in realtà applicano se applicano i costi le commissioni legate al rendimento molte volte cosa succede? succede che come benchmark prendono a riferimento uno strumento finanziario che non si muove o comunque che non non farà mai grandissimi guadagni così che magari l'azionario quando sale sale più rispetto a quel determinato benchmark e tu debba pagare anche queste commissioni qui proprio che avvengono a volte le truffe che a me fanno ridere però non ci sarebbe da ridere quindi in questo modo tu riesci in maniera veloce a capire quanto in linea di massima stai pagando per un investimento quindi dovresti se vuoi fare da solo dovresti andare a vedere tutti i tuoi investimenti e confrontarli fare un check come abbiamo visto strumento per strumento chiaramente è più difficile fare un check nel caso di gestioni separate o miste nel caso di gestioni patrimoniali policy unit linked index linked però quasi tutte qua sono spazzature quindi qua vai abbastanza sul facile sui certificati è molto complesso sui certificati è molto probabile che tu debba affidarti ad un consulente indipendente per valutarlo con questo abbiamo visto tutto attenzione quindi ai costi cerca di capire se hai strumenti efficienti o meno se stai pagando troppo nei tuoi investimenti se preferisci puoi richiederci anche un check up di portafoglio per analizzare approfonditamente i tuoi investimenti perché qui abbiamo visto in maniera generica come fare chiaramente chi dispone di un software come un consulente finanziario indipendente può analizzare a fondo per bene i tuoi investimenti quindi tutto il tuo portafoglio e riuscirai a capire seriamente quanti costi stai pagando esattamente sia in percentuale che in euro per tutti gli strumenti che hai e qui qui a volte casca l'asino nel senso che ci sono persone che pagano anche cifre folli che non si aspettavano realmente di pagare però è la verità cioè se sul software viene fuori che paghi 7000 euro 10.000 euro all'anno 30.000 euro all'anno è quello che paghi c'è poco da fare se riuscirai a capire anche se vi è spazio per migliorare risparmiando a livello costi se il tuo portafoglio è efficiente e se la banca consulente sta facendo realmente i tuoi interessi molte volte non li sta facendo e quindi è facile qua non ti serve un consulente indipendente per capirlo però lo riesci a capire forse meglio al di là di tutto lo riesci a capire meglio con un consulente finanziario indipendente e riuscirai a capire se anche c'è spazio di miglioramento a volte ci succede che arrivano dei portafogli da analizzare che sono già ottimali non riteniamo ci sia spazio di miglioramento sufficiente a far sì che quel cliente abbia convenienza a passare in consulenza da noi e diciamo allora non è che per forza dobbiamo prendere clienti diciamo che già va bene il portafoglio non ha senso passare da noi a volte ci capita di dirlo però ti dico la verità il 99% delle volte c'è spazio di miglioramento anche perché giochi giochi facile qua ti piace vincere facile se ti confronti con banche o promotori finanziari in conflitto di interesse riuscirai inoltre a capire la composizione reale approfondita del tuo portafoglio quindi riuscirai a vedere in percentuale quanto sta investendo in obbligazionario e dove esattamente in che parte del mondo in che settore e così via quindi questo può essere comunque interessante quindi questo è come riconoscere i costi le truffe che applicano le banche e come riconoscere se hai spazzatura in portafoglio se vuoi analizzare approfonditamente i tuoi investimenti puoi richiederci tramite form un check up di portafoglio per fare proprio un'analisi approfondita dei tuoi investimenti grazie a tutti